Dopo tre mesi arriva una sconfitta per la Sidgast Scandone Avellino, uno stop preventivabile che almeno ci può stare per i biancoverdi contro una Torino più in palla e dalla quale la vittoria serviva come il pane per continuare a sperare nella salvezza. Più freschi e reattivi, almeno questa è stata la sensazione, sono apparsi i giocatori della Manital, di coach Frank Vitucci. I piemontesi sono stati trascinati da Dyson, che ha ricordato quello visto negli ultimi anni a Brindisi e Sassari. L'americano è stato decisivo e ha fatto ciò che doveva, ovvero mettere canesse decisivi aiutato dal compagno di squadra White. Silente nel primo tempo, il lungo è venuto fuori alla distanza, diventando un fattore nella ripresa. La Scandone non è stata reattiva, soprattutto nel primo tempo ha concesso tanto ai suoi avversari. I raddoppi in post basso su Yang e White non sono stati efficienti. Sul perimetro poi, Torino ha fatto ciò che non aveva mai fatto nel corso di questa stagione, ovvero canistro da tre con continuità. Dalla lunga distanza, la Manital ha tirato con il 42% rispetto al solito 29% della stagione. Alcuni giocatori chiave dei biancoverdi non sono mai entrati in partita. Nannali, difensivamente, è stato un disastro. L'Unen non ha giocato con la sua solita diligenza tattica, commettendo qualche errore inusuale. Ragland ha sparacchiato in avvicinamento e dalla lunga distanza. 2 su 10 al tiro e scarsa incisività. La sconfitta cambia la situazione di classifica. Adesso i biancoverdi sono quarti perché Cremona, dopo due supplementari, ha vinto contro Cantù. C'è il rammarico per non aver ridotto i punti di distanza da Milano che, inopinatamente, ha perso a Capodorlando, segnando appena 71 punti.